sono stato rubinato rubiniamo qualcuno in live dobbiamo scegliere un canale dovete dire andate nel reddit il post dissing di Zano oh oh reddit di Omi e che devo fare? post reddit di Omi è un attimo, è una... ho capito dove ragazzi? nuovi? in quale posto devo andare? hot? Zano giuseppe grazie dei due mesi filo grazie dei cento cosa provi che nel tuo piccolo sei riuscito a diventare lo streamer con più sub su questa piattaforma e riuscire a fare medie spettatori assurdi le quali li tieni è stunatissimo eh? non capisci è stunatissimo rubaited rubaited? non gli da live dici? no no io vi state divertendo a giocare con i miei sentimenti state divertendo siete contenti di farmi del male ogni volta possiamo ... buon sì ho sono !!!! ... Grazie a tutti